Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Dopo l'incontro al grande fratello Vipsay procede a gonfie vele la storia d'amore tra l'ex tronista di Uomini e Donne e l'imprenditore Sofico Degoni è pazza di Alessandro Basciano. Dopo la delusione avuta con Matteo Ranieri a Uomini e Donne, la modella influencer è ripartita dall'ex tentatore di Temptation Island Conosciuto alla sesta edizione del grande fratello Vipsay Un colpo di fulmine per entrambi e oggi la relazione è più seria che mai Sofi lo ha ribadito in più di un'intervista e ora lo ha ammesso anche ai suoi genitori, con una lettera pubblicata sull'ultimo numero del settimanale di più Nelle scorse settimane il padre e la madre di Sofico Degoni, che sono separati da tempo, non hanno mai nascosto di provare una certa preoccupazione per la figlia Stefano e Valeria erano turbati dal carattere fumantino di Alessandro Basciano, che poteva nascondere qualche insidia lontano dalle telecamere Invece la ventenne ha fatto sapere che fuori dalla casa più spiata d'Italia tutto proceda meraviglia Sofico Degoni ha ribadito sul settimanale edito da Cairo Editore Vi siete preoccupati perché ho già sofferto nella vita, perché qualche tempo fa un uomo ha fatto del male alla mamma Da allora ho iniziato a non fidarmi più degli uomini. Solo Alessandro, con la sua dolcezza, è riuscito a farmi cambiare idea Con lui sono serene. Sofì e Basciano fanno su serio.Sofì Codegoni ha rimarcato di credere molto in questa storia d'amore con Alessandro Basciano, nata davanti ad oltre 3 milioni di telespettatori I due sono andati a convivere a Milano, per amore il modello e imprenditore ha abbandonato Madrid, dove si era trasferito per affari, ed è rientrato in Italia La coppia sogna matrimonio e famiglia anche se Basciano è già padre di un bambino, Nicolò, nato da una precedente relazione Il bambino ha conosciuto dopo la fine del reality show Sofì, con la quale ha instaurato un bel rapporto Nonostante la giovane età Alaco Degoni è molto dolce e materna, tra l'altro è la sorella maggiore di un ragazzino di 11 anni Non solo vita privata, l'ex Geffina sogna di affermarsi pure sul lavoro Sofì ha scelto di non iscriversi a giurisprudenza, come voleva il padre, ma di inseguire il suo sogno nel mondo dello spettacolo La Codegoni vuole lasciare il segno in tv.Secondo alcune indiscrezioni l'ex fiamma di Fabrizio Corona potrebbe presto debuttare in un nuovo programma, una sitcom in coppia proprio con Alessandro Basciano Al momento mancano però conferme ufficiali.Grazie per aver guardato l'intero video Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video